Esatto, questo è il primo vlog, sulla passerella di Cristo. Ciao. Siamo quasi arrivati in fondo. Siamo sulla riva del lago, sto cadendo. C'è l'Ale, salutale. Ci sono i pompieri che paura non ne hanno. Siamo qui. Siamo arrivati dall'altra parte. Siamo partiti da? Da? Siamo saltati, no? Sì. Esatto. E arriviamo a? Moltissimo. Moltissimo in generale. Ok. C'è un bellissimo tempo. Non si può saltare sulla passerella. No, più che facciamo. Dari fino a mezzo tutto il tempo per le scosse. Un bel vento. Ci vediamo al prossimo vlog. Chiudi. Ciao ciao.